ragazzi belli bentornati in questo nuovo video del gobo toscano oggi ci sono notizie succose succulente di cui dobbiamo parlare di calcio mercato ovviamente oggi parliamo anche di entrate alla juventus perché c'è una trattativa e un'indiscrezione che ha del clamoroso del clamoroso la juventus pronta a fare carte false poi vi dirò anche la mia sul sull'affare ma prima di entrare in merito di questo nuovo video nuovo contenuto vi chiedo come sempre di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto che è gratis lasciate un bel mi piace ci sostenete condividete il video sempre per sostenerci e pubblicizzarci commentate commentate dicendoci la vostra e attivate la campanella delle notifiche per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti sul mondo juventus in più qui sotto descrizione cliccate nella descrizione trovate tutti i link ai nostri social e il nostro secondo canale youtube per chi non lo conoscesse mi devo fare sempre il pippone si chiama calcio news 24 a breve fra vi dico subito fra quanto fra una sessantina 50 60 iscritti cominceremo a fare live anche lì quindi l'appuntamento col calcio raddoppia raddoppia non so dove troverò il tempo ma lo devo fare ve l'ho promesso devo fare però iscrivetevi arriviamo almeno a 500 iscritti fateci questo favore e poi cominceremo con le live allora entriamo in merito a questo nuovo argomento di calcio mercato scusate la gola mamma mia sono a pezzi a pezzi ma dobbiamo parlare per forza per forza ragazzi copminers juve atalanta disposta a trattare ecco la nuova offerta di giuntoli ecco la nuova offerta di giuntoli allora copminers si riapre il discorso dell'atalanta ora disposta a trattare ecco la nuova offerta dei bianconeri riborda perché ripetono ripetono sempre allora si sono riaperti intanto sono stati riaperti i contatti tra copminers e la juventus e tra l'atalanta e la juventus per far sì che il giocatore possa vestire il bianconero la prossima stagione ormai la sappiamo tutti l'accordo con il giocatore è raggiunto ormai da mesi manca ovviamente solo quello con i bergamaschi che continuano ahimè a chiedere 60 milioni di euro troppi ma con le cessioni di sulle eusen come vi abbiamo anticipato nelle scorse live negli scorsi contenuti giuntoli può arrivare a una cifra importante più bonus la cifra di cui si parla sono 48 milioni di euro di base fissa più una cifra che va dai 5 ai 7 di bonus dovrebbero essere 48 più 7 complessivi di bonus per arrivare a un totale di 55 milioni bonus scompresi dei quali 5 facilmente raggiungibili e 2 un po più difficili ma fondamentalmente a qui punto ha fatto 30 ha fatto 31 che te ne fa di 2 milioni in più ok allora copminers è già a posto quindi l'atalanta si pensa che a questo punto dovrebbe cedere perché sa che il calcio mercato comincia a entrare nelle fasi finali nelle battute finali c'è l'ultimo mese di agosto ma che sarà più il mese degli attaccanti e il mese delle cessioni per sfoltire le rose e gli esuberi quindi è entrato ormai nell'ordine di idee di perdere il calciatore olandese ora parliamo parliamo di quello che pensa il sottoscritto di questa trattativa ne ho parlato anche ieri live ne ho parlato con i miei colleghi fissi ne ho parlato con l'ospite di ieri che è passato a trovarci luca totti e ragazzi abbiamo diciamo tutti o quasi la medesima idea cioè l'acquisto di copminers a quelle cifre sacrificando due giovani svenduti e non venduti svenduti per arrivare a un 26 27 anni che cioè ha fatto bene all'atalanta per più di un anno bene ha fatto bene inserire per più di un anno bene ma è pur sempre all'atalanta di gasperini ragazzi è un'incognita cioè non possiamo dare per buono quello che fa un giocatore nell'atalanta di gasperini perché come vi abbiamo ricordato ieri ci sono state numerose numerose volte in cui i giocatori dell'atalanta hanno vestito altre casacche e non è andato mai come sperato gosens uno su tutti zapata ripeto l'unico secondo me che si ha fatto bene anche fuori cristante non lo so gente ieri mi ha detto spinazzola ma spinazzola è più rotto e che altro c'è solo all'atalanta era così incisivo quello spinazzola chi c'è stato chi c'è stato ditemi ditemi qualche nome di giocatori dell'atalanta non vecchia dell'atalanta di gasperini che è uscito dal panorama calcistico bergamasco si è messo in mostra il risalto io non ne ho ricordi e sono certo che copminers sia un ottimo giocatore non sto dicendo che è una pippa ma allo stesso tempo sono convinto che non ripeterà mai una stagione con i numeri dell'anno scorso all'atalanta diciamo ogni giocatore ha una stagione massima ecco dico che se quella di copminers non è stata massima vuol dire che la juve il prossimo anno si ritrova in mano perché vuol dire fa meglio un giocatore da 150 milioni di euro perché se per due stagioni non esegutive questo rifà altri 12 gol metti qualcosa di più e 10 assist fermi tutti fermi tutti allora la juve ha fatto un capolavoro ma abbiamo sta certezza secondo me migliorare la stagione dell'anno scorso è presso che non impossibile ma difficilissimo e me lo auguro me lo auguro e lo faccia mi auguro io di sbagliarmi però ripeto secondo me non c'è vai dai via due giocatori ne aggiungi altrettanti soldi per arrivare a un giocatore quindi poi ti scopri sull'esterno perché dai via hai dato via sulle ti scopri in difesa perché hai dato via huizen se i soldi di huizen servivano per todiboh non possono servire anche per copp minors giusto matematica a casa mia è così ora so che a noi della juventus a noi tifosi della juventus perché anche i tifosi del milan piace per la loro squadra lì quelli dell'inter per la propria noi tifosi della juventus amiamo questi momenti del calcio mercato abbiamo sognare i giocatori e per carità io sei il primo che adoro il calcio mercato lo adoro proprio vedete quanti video sto facendo prima mi vedevate fare tutti sti video no perché il calcio mercato è una cosa che mi appassiona veramente tanto ma da lì a dire che c'è un'operazione con un senso logico importante cioè ce l'avrebbe se dovesse succedere così se non dovesse succedere così ma succede cosa non ha tutta quella progettualità questa operazione tanto che si parla sempre di linea verde alla juventus quindi ribadisco il concetto cup miners a me piace ma secondo me è troppo a quella cifra offerta che arriverà lunedì lunedì della prossima quindi domani domani o al massimo domani sera o al massimo dopo domani mattina quindi entro il mese di luglio la juventus presenterà questa offerta da 48 milioni più 7 di bonus complessivamente 55 milioni per te un cup miners quindi preparatevi preparatevi perché questo è l'assalto definitivo non ci sarà un ritrattamento questa è l'offerta della juventus la juventus non riesce non può assolutamente dare ancora più soldi a un'ennesima squadra di serie a questo è il mio pensiero e credo sia anche il pensiero di tanti di voi ripeto se non è così dovete dirmelo in maniera educata ovviamente perché non offendo nessuno e non voglio tantomeno essere offeso ma fatemi sapere cosa ne pensate mi raccomando perché sono cose che mi interessano molto detto questo ragazzi quindi cup miners indirittura d'arrivo arriveranno altre notizie nella giornata di oggi perché c'è anche un altro giocatore che si sta avvicinando alla juve che la juventus in questo momento ha sorpassato tutti nelle gerarchie per acquisire le prestazioni del giocatore ma prima di ciò io vi devo lasciare con questo video perché l'altro lo devo ancora preparare quindi non posso fare un video unico di 20 minuti quando voi poi guardate una notizia sola e l'altra ve la perdete ve li divido ve li faccio piccolini brevi e vi guardate un video per volta fino alla fine forza juve fino alla fine gobbo toscano perché il gobbo toscano siete tutti voi per favore ora concentrazione 20 secondi iscrivetevi al canale del gobbo toscano e al canale in descrizione calcio news 24 lasciate like al video condividetelo con i vostri amici e colleghi commentatelo e attivate la campanella delle notifiche se no quando i video escono e poi mi dite ma non è arrivata la notifica dovete mettere sulla campanellina a pigiare e poi c'è le notifiche personalizzate e tutte poi cliccate su tutte almeno vi arriva anche se io fa una scureggia vi sono i telefoni il gobbo toscano ha fatto la scureggia e me non vuoi sbagliare nulla non sbagliate nulla e a noi ci supportate perché ci date modo di far crescere anche nei primi minuti di visualizzazione il video no avete visto i video senza notifiche per crescere se poi dovessero crescere ci vuole tanto tempo mi raccomando fate tutto questo e noi vi ringrazieremo ogni giorno con contenuti e progetti nuovi ciao